Iniziare il nostro incontro conferenza stampa, oggi potete immaginare i giornalisti dove saranno, quindi se c'è qualche eroe che è qui presente bisogna proprio premiarlo perché immagino che siano tutti davanti al Quirinale. Bene, noi, intanto mi dispiace ma purtroppo sono tutti malati, ci hanno telefonato ieri sera, sia Alessandra Delli che Antonio Noto non riescono a essere con noi, sono amasti a casa con la febbre e quindi sono febbricitanti. Giovanna Rossiello invece l'aspettiamo ma un po' che la cerchiamo mi arriverà. Bene, detto questo, siamo qui per illustrarvi come appuntamento consolidato, abbiamo scelto questa sala perché così io faccio anche il parlamentare, quindi usiamo anche le strutture della Repubblica e questa è una sala stampa molto autorevole e ci pareva che i dati che vi andremo a fornire oggi siano altrettanto autorevoli per il bene di questo Paese. Questa è la nostra undicesima rilevazione semestrale, ovviamente preparata e organizzata dall'Istituto Italiano della Donazione in collaborazione con l'Associazione Italiana FanRiser. Come chi ci frequenta, chi segue i nostri appuntamenti, ovviamente l'indagine è un'indagine che cerca di approfondire alcuni punti, alcune domande, alcuni nodi strategici della vita delle ONP e sulle domande che noi poniamo, per fare una sintesi evidentemente perché poi il questionario è ben più articolato, sostanzialmente indaga sulle fonti di finanziamento, cioè se è diminuito e aumentato la capacità di accedere ad altre fonti di finanziamento, se questi contributi sono sufficienti, se quali sono le prospettive 2014 eccetera eccetera. Ovviamente per fare questa indagine che coinvolge più di 200 organizzazioni collaboriamo col Centro Nazionale per il Volontariato, collaboriamo col Forum del Terzo Settore, collaboriamo con CSV.net, collaboriamo anche con la Fondazione Sodalitas. Accanto a noi come media pattern ci sono appunto il Tg1, le Buone Notizie e anche il Corriere della Sera che ci stanno seguendo in forma diversa e quindi staranno attenti alle cose che andremo a dire in tempi abbastanza brevi. Il campione, questo è importante dirvelo sempre, il campione è un campione non statistico, nel senso che non è che è un campione tarato in base ai criteri statistici come accade per l'Istat o per il Censis, tuttavia le 200 organizzazioni che seguono e ci danno fornito le informazioni sono, diciamo, nei loro bilanci, nella quota bilancio, rappresentano un pezzo autorevole e piuttosto significativo del Terzo Settore italiano. Ormai è un campione consolidato in questi anni, si arricchisce sempre di più e quindi possiamo anche disegnare e anche offrirvi anche delle linee di tendenza. Allora quali sono i dati? Poi Cinzia di Stasio, la nostra direttrice, andrà più nel merito. Quali sono gli elementi, diciamo, che a mio parere sono una buona notizia? E che rispetto alle tendenze che avevamo annotato nel precedente rapporto, in realtà abbiamo avuto un incremento nel 2013 che dice forse che è finita la fase di calo e forse si sta riaprendo un percorso di aumento, di incremento delle raccolte fondi. Bisogno soltanto alcuni dati, nel periodo natalizio, che già mette il periodo più significativo, parliamo del 2013, questo è un dato che non avevamo mai riscontrato in questi ultimi due o tre anni, bene il 45% delle organizzazioni, quindi quasi la metà, hanno migliorato la propria raccolta fondi. Soltanto il 27% dichiara che ha peggiorato, il restante dice sostanzialmente che è rimasto più o meno così com'era nella presente rivelazione. Quindi il primo elemento, direi interessante, è che abbiamo una tendenza di miglioramento. certo, forse non è quello che ci aspettavamo, ma noi fin questi due o tre anni avevamo sempre notato elementi di negatività, leggeri cali, tenute ma cali nella raccolta fondi. Questo è un primo elemento che mi pare importante e significativo. Poi un altro secondo elemento, poi su questo ribadisco, il 5% di Stasio sarà ben più attenta e darà più il dettaglio. Il secondo elemento è che, ancora una volta, lo strumento che più viene utilizzato da queste 200 e più organizzazioni, è ancora il mail in cartaceo, sembrerà un po' paradossale, ma è ancora lo strumento più efficace, perdono punti l'utilizzo degli eventi, abbiamo quasi un calo, quasi del 10%, aumenta l'uso dei banchetti, aumenta il face to face, abbiamo quasi un più 3% sui banchetti, più 4% sul face to face. Aumento le donazioni online, siamo a più 4%, mentre ancora sul crowdfunding e su altro, direi, non abbiamo tendenze in crescita neanche sull'SMS solidale. Questo è un po' il quadro che noi adesso fra un po' vi segnaleremo in dettaglio. Mi premeva però aggiungere due considerazioni un po'. La prima è questa, che se è vero che assistiamo a una ripresa delle donazioni, lo dico come Presidente dell'Istituto, ma mi permetto di dirlo anche come parlamentare, l'auspicio che a questa ripresa siano accompagnati azioni legislative che vadano nella direzione di premiare appunto questo segnale positivo. Spesso si parla del Paese in difficoltà, io dico spesso anche, ci sono anche schegge di speranza, passatemi questo termine, molte schegge di speranza, una di queste è appunto la tenuta degli italiani, delle famiglie italiane a continuare a donare, e questo è un elemento che ci dice che la tenuta c'è stata e addirittura riprendiamo a crescere. Credo, lo dico a nome dell'Istituto, e credo anche dalla rete di tantissime associazioni, che una soluzione in tempi brevi sul 5 per mille, sul 5 per mille, intanto la settimana scorsa abbiamo ripresentato, devo dirvi con un po' di stanchezza, perché l'ennesima interrogazione al Ministro dell'Economia per chiedere se sul 5 per mille, visto che la Camera approderà la delega fiscale, si possa finalmente, così come è scritto nella delega fiscale, chiarire definitivamente, regolare definitivamente questo strumento, che sapete vuol dire istituirlo definitivamente, eliminare il tetto, eccetera, eccetera. Questo è un primo passaggio importante, secondo me, come Istituto ci sentiamo di sostenerlo e chiediamo in questo aiuto anche alle organizzazioni. L'altro elemento importante, lo dicono per fare della polemica, ci mancherebbe anche quello, poi non sono un tipo molto polemico, sapete che al Senato è stata approvata la legge sul finanziamento dei partiti, arriverà anche questa legge alla Camera, non voglio entrare nella contrapposizione partiti non profit, dico soltanto che le agevolazioni fiscali che sono state, che vengono concesse ai partiti, quindi non dico più o meno, dico le agevolazioni fiscali che si attestano nell'ultimo testo al 26% sulle donazioni fatte ai partiti, siano, non dico più o meno, dico le stesse, le medesime che vengono date al terzo settore. È assolutamente inaccettabile che ci siano due percorsi di fiscalità agevolata diversi, tra cui nel quale peraltro chi ci rimette il terzo settore, dando un messaggio pessimo anche all'opinione pubblica. Quindi 5 per mille agevolazioni adeguate e fiscali al pari a quelle che pare vengono concesse ai partiti al terzo settore. Questo proprio per rispondere a questa tenuta della cittadinanza, dei nostri cittadini a donare, e dicevamo appunto a questo invece incremento che registriamo nel 2013. L'ultima nota, poi darci la parola a Cinzia di Stasio, sempre per stare sul positivo, è che al Senato, per merito del Presidente Ciampi, lui ha seguito la vicenda, l'ha accompagnata, adesso purtroppo non sta tanto bene, quindi non è facilmente eccessile, presso il Senato è depositata una legge, un articolo che istituisce, firmata da capigruppo, quasi tutti i capigruppo del Senato, e speriamo che arrivi, venga lì deliberata, e quindi poi passi alla Camera, che istituisce la giornata del dono. è un pensiero, è una cosa che coltivavamo da tempo, dovrebbe essere, come dire, una procedura agevolata, perché appunto è stata firmata dai capigruppo, credo che ne manchino due, non ricordo quali, giornata del dono, che nell'articolo è stabilita il primo di ottobre, e la giornata internazionale europea delle fondazioni dei donatori, quindi corrisponde a una giornata che c'è già a livello europeo poco conosciuta, io non sapevo neppure che esistesse, noi aggiungiamo appunto a questa giornata europea la versione italiana, chiamandola appunto la giornata del dono, se riusciamo a portarla a casa in tempi brevi, con la rete anche delle fondazioni bancarie, e non solo quelle bancarie, anche con la rete delle fondazioni private, anche questa è una buona notizia, perché in quel giorno è un'occasione, se riusciremo appunto a, in questo chiediamo anche aiuto, a sostenere e incrementare questa cultura del dono che nel nostro Paese c'è ancora e che merita più attenzione, quindi non solo fiscalità agevolata, che pure ci vuole, quindi vuol dire più sussidereità, più opere che fanno bene comune, ma anche una giornata, quindi una rete di iniziative culturali che promuovono appunto questa cultura del dono, così preziosa, così importante oggi, perché anche questa non è soltanto filantropia becera, ma un modo per sostenere, c'è chi lo fa attraverso, giustamente lo si fa attraverso la politica, attraverso le istituzioni, e c'è chi lo fa promuovendo la sussidereità attraverso le organizzazioni di terzo settore, quindi la giornata del dono, fiscalità agevolata, obiettivi di questi mesi per l'istituto della donazione. Cinzia, a te la parola per andare più nel merito di questa undicesima rilevazione. Grazie, grazie Edo. Allora, le cose più importanti sono effettivamente già tracciate, possiamo, questa volta siamo un po' più ottimisti rispetto alle volte precedenti, perché effettivamente abbiamo registrato un andamento positivo rispetto agli anni precedenti. Come sempre io vi darò il dettaglio dello scenario che si sta andando a configurare. Sulla metodologia non abbiamo cambiato praticamente nulla, il dato che, anche qua è interessante, che comunque c'è una crescita delle organizzazioni che rispondono al nostro questionario, siamo arrivati ad oltrepassare le 200 organizzazioni, quindi rispondenti, più 18% rispetto all'ultima rilevazione che abbiamo fatto a giugno del 2013. Continuano a rispondere comunque i responsabili della raccolta fondi, i direttori generali e i presidenti delle organizzazioni. Questo per dire che anche le risposte risentono di una certa qualità del rispondente, quindi sono delle risposte piuttosto certificate dal ruolo delle persone che rispondono al questionario. Le rilevazioni su gennaio, ricordo che facciamo una rilevazione chiedendo alle organizzazioni di stimare come è andata la raccolta fondi. In questo caso la raccolta fondi natalizia 2013, quindi esclusivamente il periodo che fa riferimento al Natale, oltre alle entrate totali di tutto il 2013, quindi raccolte fondi e entrate totali, però sono delle stime. Tant'è che noi a giugno ripetiamo l'indagine per confermare questi dati o smentirli, di solito comunque c'è una conferma piuttosto sostanziale di quello che rileviamo a gennaio, sui dati di bilancio, quindi questa è una prima stima di quello che è successo nell'anno. Chiediamo anche le aspettative sull'intero 2014, perciò abbiamo uno scenario abbastanza per intero sia del passato che del futuro di quello che le organizzazioni si aspettano, sia sulla raccolta fondi che sulle entrate totali. Faccio questa differenza perché per noi è importante, quando parliamo di entrate totali facciamo riferimento anche a quei finanziatori, sostenitori istituzionali, come la pubblica amministrazione, i vari ministeri per quanto riguarda le ONG, piuttosto che i contratti e le convenzioni per le cooperative sociali. Quindi facciamo rientrare nel bacino anche della nostra rilevazione, delle fonti di sostegno che non sempre vengono registrate in altre indagini. Vado direttamente ai dati. Il campione, anche questo è un campione abbastanza, insomma chi ci segue conosce abbastanza bene ormai anche la composizione delle organizzazioni che rispondono e rispecchia abbastanza bene quello che abbiamo rilevato negli anni passati. Abbiamo quasi un 30% equamente suddiviso tra cooperazione internazionale, quindi organizzazioni che si occupano di SAD, adozione internazionale, cooperazione internazionale, salute e ricerca scientifica per il 31%, lotta all'emarginazione sociale per il 25%. Poi c'è una parte un po' più residuale di organizzazioni che rispondono, che fanno capo alla cultura, all'ambiente, alla filantropia, sport e tempo libero. Però essendo delle effette, delle percentuali relativamente esigue ancora, non facciamo uno spaccato per i settori rispetto a questi ultimi quattro settori. Quindi la composizione comunque resta e anche l'analisi che noi facciamo resta vincolato soprattutto ai primi tre settori, proprio per una questione numerica e quindi anche di serietà nel restituire i dati che raccogliamo. Da un punto di vista economico, non c'è la slide, ma giusto per darvi anche questa indicazione, anche lì sono suddivisi più o meno il 50% di organizzazioni che superano come entrate totali i 500 mila euro all'anno, rispetto a quelle invece che sono sotto questa soglia. Perciò abbiamo anche qui una distribuzione abbastanza omogenea di grandi e piccole, chiamiamole così, giusto per spaccare in due collaccette il campione. Andiamo direttamente alla raccolta fondi natalizie. Mi rifaccio alle prime battute del Presidente ed è questo il dato che ci fa ben sperare. È un dato che adesso vedremo anche nel confronto agli anni passati. È la prima volta che si registra, cioè quasi il 50%, precisamente il 45% di organizzazioni che ha migliorato la propria raccolta fondi natalizia sul 2013. Ribadisco natalizia, non parliamo di raccolta fondi sull'intero anno. Probabilmente questo dato, la parte finale dell'anno, è riuscito anche a far alzare in qualche modo la tenuta dei bilanci sulle entrate totali dell'intero anno. Però su questo spaccato il miglioramento è evidente. Poi vedremo sull'intero anno, quindi sulle entrate totali, come questo dato ha influenzato il bilancio totale delle organizzazioni. Quindi il 45%, anche questo 27% che ha peggiorato, lo vedremo nel confronto con gli altri anni, non è un dato da sottovalutare. Quindi ci ritroviamo in una situazione che potrebbe segnare un prima e un dopo rispetto al periodo di grande crisi che le organizzazioni hanno vissuto, soprattutto negli ultimi due anni, 2011 e 2012. Infatti vediamo Natale 2010, 2011, 2012 e 2013. Tra l'altro ricordiamo che questa è l'undicesima edizione di questa rilevazione, perciò possiamo vantare una serie storica, non indifferente di dati. Potremmo anche fare il confronto fino al 2008. Non lo facciamo semplicemente perché perderemo davvero troppo tempo a descrivere poi quello che è successo, ma andando a ricercare sulle nostre indagini precedenti, anche voi stessi potete fare anche un confronto con gli anni precedenti al 2010. Quindi come potete vedere, il 45%, cioè il DPU, l'ultimo histogramma, supera addirittura quel 36% del Natale 2010, che sembrava già molto positivo. Ed è assolutamente un segnale che dobbiamo cogliere con grande entusiasmo e positività. Anche il 27%, come vi dicevo prima, di organizzazioni che raccolgono di meno, è comunque inferiore rispetto al 34% dell'anno prima, al 35% dell'anno prima ancora. Oppure le organizzazioni che hanno sofferto una raccolta fondi peggiore, diminuiscono di quasi 10 punti in percentuale, 7 punti in percentuale. Altro dato, secondo me, interessante, che anche qui, per la prima volta, visto l'andamento quindi del positivo e del negativo, le organizzazioni in linea scendono al di sotto del 40%. Soltanto il 28% si dichiara in linea, vuol dire che qualcosa effettivamente è cambiato rispetto all'anno prima. Solo il 28% e questa percentuale di scarto tra il 44% e il 28% lo ritroviamo nei 7 punti in percentuale in meno delle organizzazioni che hanno sofferto e del quasi 23 punti in percentuale invece di quelle che hanno migliorato. Quindi effettivamente è confermato anche da un quadro generale questo miglioramento e questa tendenza al miglioramento. Sulle entrate totali intero anno cosa succede? Succede che soltanto dico soltanto ma in realtà non è non è soltanto cioè a livello aritmetico possiamo definirlo un numero che dice poco ma nella storia che vedremo rispetto agli altri anni invece dice anche abbastanza. soltanto il 26% migliora e diminuisce il 27% sulle entrate totali come ho detto prima facciamo riferimento a tutte le entrate che compongono il bilancio di un'organizzazione quindi non soltanto esclusivamente la raccolta fondi da privati. Il confronto di questo dato con gli altri anni ci dice proprio questo che il di più resta sostanzialmente in pareggio quindi nel 2013 le organizzazioni che hanno migliorato il proprio bilancio resta più o meno uguale 27-26% però è importante che diminuisce di 10 punti in percentuale il numero delle organizzazioni che ha sofferto dei bilanci penalizzanti nel confronto con il 2012 questo significa che quella percentuale di organizzazioni quel 45% di organizzazioni che abbiamo visto inizialmente che ha migliorato la propria raccolta fondi natalizia in qualche modo ha arrestato la raccolta fondi natalizia positiva ha arrestato il peggioramento dei bilanci quindi delle entrate totali sul 2013 non è riuscita nonostante è stata una raccolta fondi positiva a far segnalare un segno positivo probabilmente rispetto agli altri anni sull'intero 2013 però l'effetto trascinamento verso il basso si è arrestato perché abbiamo questo 10% di organizzazioni in meno che ha sofferto questa è un po' la lettura che noi abbiamo dato perciò l'influenza sull'inter anno effettivamente c'è stata ed è un'influenza che bisogna segnalarla in positivo sulle previsioni sul 2014 anche qui vediamo che questi segnali di miglioramento hanno fatto dire alle organizzazioni quasi per il 60% che prevedono di migliorare sull'intero 2014 quindi c'è anche un grande segnale una grande speranza una scheggia di ottimismo riprendendo le parole iniziali rispetto alla raccolta fondi sul 2014 quindi sembra concretizzarsi una coscienza delle organizzazioni non profit di questo settore che si può uscire da una crisi e forse già arriva del momento di pensare positivamente sulle strategie di raccolta fondi andiamo un pochino più sul versante tecnico che però in realtà anche qui ci dice come cambia come cambiano le attitudini gli atteggiamenti delle organizzazioni non profit anche sulla base dei risultati ottenuti come è stato già detto è interessante questo praticamente ci fa vedere questo grafico che gli strumenti più frequentemente utilizzati e quelli che potremmo definire anche più tradizionali cioè gli eventi il direct mail in cartaceo i banchetti in piazza e aggiungiamo anche il direct mailing elettronico già da qualche anno insomma tutte le organizzazioni utilizzano restano tra i primi posti quindi si conferma la tendenza all'utilizzo di questi strumenti gli altri strumenti raccolta fondi verso imprese è sempre stato alto ma ora vedremo anche nelle slide successive che effettivamente c'è anche un dato interessante da rilevare face to face donazione online raccolta fondi attraverso social media sms solidale e crowdfunding restano ancora in coda a questa classifica adesso vedremo anche perché se andiamo a vedere abbiamo chiesto alle organizzazioni oltre allo strumento di raccolta fondi più utilizzato qual è quello più efficace come abbiamo fatto nella rilevazione passata questo è molto interessante perché vediamo se ad esempio gli eventi come sottolineava prima Patriarca all'inizio vengono utilizzati dal 30% ma soltanto il 20% lo considera lo strumento più efficace quindi c'è uno scarto in alcuni casi tra l'utilizzo massiccio e la percezione dell'efficacia dello strumento per efficacia noi abbiamo chiesto cioè valutando il costo dell'utilizzo dello strumento quale tra questi strumenti ti permette di accogliere di più rispetto al costo quindi facendo comunque un conteggio al netto dei costi vivi dell'utilizzo dello strumento altra cosa interessante che invece gli strumenti meno tradizionali andando dal face to face in poi quindi face to face donazione online che questo è il grande tema quindi l'utilizzo di internet per le raccolte fondi raccolte fondi attraverso soprattutto scusatemi il face to face le donazioni online carta di credito vengono utilizzate per il 6% ma vengono stimate efficaci per un campione più alto quindi dal 6% si passa al 10% il 2% utilizza l'online nelle carte di credito ma per il 6% addirittura è ritenuto lo strumento più efficace quindi forse incomincia anche ad affacciarsi la consapevolezza che strumenti che costano meno e che possono comunque viaggiare su delle piattaforme online quindi utilizzando anche le opportunità tecnologiche che adesso lo scenario ci offre possono essere maggiormente sfruttate perché ritenute più efficaci guardiamo anche purtroppo appunto il dottor Noto non è con noi ricordo che questa indagine si sposa abbastanza bene come periodo perché il sole 24 ore IPR marketing per il sole 24 ore stila praticamente un'indagine simile alla nostra ma sul lato dei donatori dei privati cittadini e chiede ai donatori rispetto alle raccolte fondi natalizie come si sono comportati l'utilizzo le modalità che i privati continuano comunque a preferire non si spostano più di tanto restano ancorati ai famosi strumenti tradizionali che le organizzazioni utilizzano ed è per questo che è difficile per un'organizzazione non profit per le vostre organizzazioni fare un passaggio forzare un passaggio perché il passaggio diciamo all'online all'utilizzo delle piattaforme proprio perché i cittadini comunque continuano a donare attraverso contanti attraverso bollettini postali e bonifico bancario per 30-33-36% quindi vuol dire che comunque gli strumenti continuano ad essere utilizzati anche in concomitanza a un utilizzo alle preferenze del donatore e perciò non si riesce comunque ad uscire da questo circolo vizioso per il momento anche se l'efficacia viene ritenuta come abbiamo visto più alta rispetto a questi strumenti tradizionali l'utilizzo dei social media abbiamo chiesto proprio perché ci interessa capire come si muovono le nuove tendenze piuttosto che andare a confermare le vecchie tendenze che sappiamo essere effettivamente sempre in testa alle nostre classifiche sulle nuove tendenze come e se le organizzazioni utilizzano i social media per social media intendiamo soprattutto l'utilizzo delle pagine di facebook e di twitter quindi questi sono i due grandi le due grandi macro aree la sorpresa che poi non è una sorpresa perché in realtà le altre indagini hanno confermato questo dato che è comunque per l'84% del campione le organizzazioni utilizzano quindi sono brave ad utilizzare questi strumenti soltanto il 16% non ha mai aperto una pagina facebook o ha un profilo twitter però come viene utilizzato l'84% ce l'ha ma solo per il non solo soprattutto quindi la maggior parte quasi il 100% il 94% lo utilizza per comunicare quindi la raccolta fondi non è l'utilizzo preferito per le organizzazioni che abbiamo intervistato ci possono essere dei casi diversi comunque quasi un 100% ci fa capire che è una tendenza piuttosto strutturata il 94% perciò lo utilizza per comunicare solo il 2% di questo 84% per raccogliere dei fondi un 4% utilizza entrambe però siamo veramente a delle percentuali residuali rispetto all'utilizzo massiccio che è quello per la comunicazione e questo è un dato che comunque è confermato da altre indagini che sono state fatte specificatamente per questo tema un'altra cosa che abbiamo chiesto che ci sembrava comunque interessante da analizzare perché se ne parla tantissimo c'è anche un fiorire di piattaforme di crowdfunding inarrestabile in questo periodo abbiamo chiesto alle organizzazioni rispetto a un mercato che effettivamente sembra fiorente da questo punto di vista di piattaforme che vanno a piazzarsi diciamo nel mercato delle raccolte fondi come le nostre organizzazioni si comportano cioè chi le ha utilizzate nell'utilizzo quanto effettivamente hanno raggiunto il risultato stimato allora l'80% non ha mai utilizzato una piattaforma di crowdfunding soltanto il 20% l'ha fatto ma di questo 20% quindi parliamo di circa 40 organizzazioni del nostro campione soltanto il 17% ha raggiunto l'obiettivo che vuol dire 7 organizzazioni più 200 quindi i numeri sono questi ma non è né per scoraggiare né per incoraggiare probabilmente per le organizzazioni un po' più soprattutto le organizzazioni un po' più piccole hanno difficoltà ad utilizzare correttamente questo strumento perché lo utilizzano ma non hanno alla base una rete di contatti solidi per poter indirizzare poi la propria insomma compagine di donatori verso uno strumento che comunque viaggia su quei canali che sono poco graditi al donatore così come non lo conosciamo perché si utilizza la carta di credito si va su internet quindi abbinando due atteggiamenti che è lo scetticismo rispetto a uno strumento online che è la carta di credito e magari un cattivo utilizzo dello strumento in sé che è il crowdfunding si raggiungono dei risultati al momento effettivamente scarsi con delle potenzialità che invece in altri paesi stanno portando a dei risultati molto più impaggianti il target dei donatori e stiamo per concludere abbiamo come sempre chiesto alle nostre associazioni qual è il target dei donatori che continua a donare anche nei momenti di maggiore crisi restano i privati nel 2012 avevamo avuto una caduta quasi drammatica della generosità dei privati per privati intendo privati cittadini non aziende quindi esclusivamente le persone che sono affezionate e quindi continuano a donare che sono nei nostri database il 36% nel 2012 nel 2013 ritorniamo a dei risultati abbastanza incoraggianti quindi il 51% delle organizzazioni ha dichiarato che sono i privati il target più generoso quindi che continua a donare e questo rispetto anche agli decisi insomma iniziali è anche questo un dato molto importante proprio perché i privati cittadini sono effettivamente quelli che in qualsiasi momento in momenti di crisi piuttosto che in momenti anche di grande respiro economico continuano a donare e nel momento in cui l'atteggiamento è consolidato non viene trascurato anche nei momenti di maggiore crisi le difficoltà maggiormente riscontrate il donatore dona di meno è la la percentuale maggiore di organizzazione ha registrato che il donatore dona di meno per il 40% difficoltà a trovare nuovi donatori per il 28% il 13% una maggiore concorrenza con organizzazioni simili registro e vi faccio notare che soltanto il 7% registra una perdita di donatori fedeli anche questo è un dato che abbiamo registrato in tutte le nostre edizioni anche nei momenti più bui di grande crisi quindi 2009 2010 2011 soprattutto soprattutto il 2011 la percentuale di perdita di donatori fedeli era veramente bassa rispetto alle altre perciò anche qui noi soprattutto come istituto il ruolo che abbiamo è quello di sollecitare e sottolineare che la trasparenza e il rapporto con il donatore che va nella direzione di fidelizzarlo è l'unico strumento che effettivamente paga anche nei momenti di maggiore debolezza economica proprio perché il donatore fedele non abbandona magari dona meno rispetto a prima però continua comunque a sostenere l'organizzazione perché è un comportamento che è sostenuto da alcuni valori di base che non vengono meno nei momenti di crisi sempre nel rapporto annuale PR Marketing per il sole 24 ore hanno chiesto al donatore il fatto che quest'anno ha donato di meno non ha donato affatto a che cosa era dovuto e anche qui quindi è confermato per il 58% da una minore disponibilità economica motivi di altro genere non sa quindi comunque la minore disponibilità economica sicuramente influenza ma influenza la quantità del donato e non il fatto o comunque la decisione di donare o meno chiudiamo con un'indagine che citiamo spesso anche questa perché viene fatta nello stesso periodo e quindi comunque ci fa gioco nell'analisi anche internazionale di quello che sta succedendo il World Giving Index del 2013 chi ci segue appunto ricorderà che a gennaio noi mettiamo sempre questa slide per capire o comunque stare attenti a cosa succede proprio a livello internazionale perché questa indagine è fatta in 135 paesi ed è rivolta a 155.000 persone perciò effettivamente è l'unica indagine che si occupa di monitorare gli andamenti e comportamenti dei donatori in tutto il mondo e su tre assi principali viene chiesto questo ai donatori o comunque alle persone non per forza donatori ha donato denaro a un'associazione non profit ha fatto volontariato o ha aiutato un estraneo o comunque qualcuno che non conosceva questi tre le risposte a questi tre item diciamo ci dà un indice generale del comportamento più o meno generoso diciamo così in tutti i sensi quindi nei termini dell'accoglienza dell'aiuto e della donazione economica gli stati uniti sono il paese più altruista comunque così sembra seguiti da canada e dal mainmar che sarebbe l'ex birmania l'italia migliora il suo posizionamento piazzandosi al 21 posto battendo germania lussemburgo spagna e francia questo cosa vuol dire che comunque un po' ci conforta cioè non vogliamo fare delle indagini che poi non vengono comunque senza nessun confronto con l'esterno la nostra indagine confrontata con i dati del sole 24 ore i pr marketing come abbiamo detto prima lato donatori insieme a questo sguardo internazionale del world giving index ci fa ben sperare che questa questa accelerazione verso il miglioramento che abbiamo registrato possa essere effettivamente supportata anche da uno scenario internazionale e nazionale per quanto riguarda i donatori che si può far ben sperare in modo concreto e non parlando di numeri o di campioni che magari nel nostro caso possono essere statisticamente poco rilevanti abbiamo chiuso cioè ci siamo permessi anche in quest'ultima slide di agganciarci all'iniziativa che l'istituto sta portando avanti come è stato detto all'inizio del giorno del dono quindi questo disegno di legge e forse questo è l'anno buono proprio in virtù anche di questa ripresa economica comunque di questa ripresa delle raccolte fondi che sembra migliorare potrebbe essere effettivamente terreno fertile per parlare di dono e per istituire la prima giornata nazionale del dono a ottobre di quest'anno vi ringrazio grazie Cinzia abbiamo tempo perché la sala non voglio tenervi qua fino a luna ci mancherebbe altro però abbiamo un po' di tempo già mentre sono molto contingentate un'ora ci siamo allargati un pochino siamo riusciti a strappare qualche tempo un po' più lungo per le vostre domande e poi eventualmente a Giovanna Rossiello che ci ha raggiunto le conclusioni di questa mattinata anche oltre ai dati cioè se siete anche interessati anche all'attività dell'istituto e non solo i suoi dati anche su come vengono costruiti questi dati Cinzia vi darà tutte le risposte posso? prego io così non sono molto colpito da alcune cose noi un po' ci conosciamo magari se vi presentate io vi conosco un po' quasi tutti mi chiamarono Letti sono presidente di un'organizzazione che si occupa di adozione internazionale che è il CIFA a parte alcune cose che devo cercare di capire se collimano con le sensazioni naturalmente io perché a gennaio avere i dati già sufficienti per fare la votazione è un po' difficile io sono molto interessato come credo tutti a come finirà il 5 per 1000 perché al di là del fatto che tutta ospichiamo che sia naturalmente una cosa fissa che non sia derivi solo dalla bontà della bontà del governo di turno anche sul fatto del tetto perché insomma se uno è del 5 per 1000 lo abbassino dicono il 4 ma se non altro tutto quello che arriva dovrebbe andare mi preoccupano alcune regole però laterali a questo discorso del 5 per 1000 mi riferisco ad esempio alla capacità che solo alcune organizzazioni internazionali hanno di spendere dei patrimoni in campagne pubblicitarie con degli sponsor dei testimonian che costano delle barcate di soldi credo che non te lo debba dire io relativamente alla man bassa che si fa della possibilità che c'è di raccolta fondi in Italia io spero che ci sia anche qualche misura etica all'interno di quello che possono essere delle misure legislative tu cosa ne dici? magari facciamo volentieri rispondi facciamo andiamo un po' tutte le domande osservazioni non c'è la domanda anche una vostra reazione perché se ci sono dei giornalisti che sono dati interessanti se siete responsabili di organizzazioni magari i dati nostri non sono magari rispondenti insomma è interessante anche un po' dialogare per capire aiutarci anche noi a trarre sempre meglio i dati che vi offriamo prego io ho una domanda sempre faccio parte anche io del Cifasone mi chiamo penso online che possono sì sì rispondo io risponderò facciamo un giro di grazie se ci sono domande posso ancora chiedere una cosa oggi qual è la situazione delle deducibilità o detraibilità delle donazioni perché adesso c'è un discreto pasticcio relativamente a testi che sono circolati c'era una signora sono Gioia Grandi sono ingegnere e collaboro ad una realizzazione di piattaforma multimediale per il fundraising vorrei sapere se nell'ambito della vostra indagine avete riscontrato che soprattutto i cittadini cioè diciamo i privati possono richiedere per aumentare il flusso della donazione eventualmente un feedback o una trasparenza o un ritorno di informazione rispetto alla donazione effettuata e se questo può incidere quindi su un incremento futuro del flusso domande tecniche così insomma risolviamo i dubbi velocemente sulle donazioni online diciamo che il discrimine è l'utilizzo della carta di credito principalmente quindi tutto quello che all'interno di un sito internet o attraverso piattaforme anche di crowdfunding piuttosto che appoggiandosi comunque non per forza attraverso il proprio sito quindi anche facebook in alcuni casi in quel 2% può essere utilizzato per fare raccolte fondi online l'utilizzo della carta di credito quindi per noi diciamo è questo l'universo relativo alla domanda sulle donazioni online sul discorso della trasparenza non abbiamo fatto in questa rilevazione non facciamo delle domande specifiche su quanto conti la trasparenza diciamo nella propensione a donare però essendono l'istituto italiano della donazione che lavora proprio per garantire i donatori soprattutto nei confronti dei comportamenti delle organizzazioni non profit mi sento serena nel dire che la trasparenza gioca un ruolo importantissimo e lo vediamo soprattutto dal dato del 7% i donatori fidelizzati i donatori quindi che hanno un rapporto di fiducia con l'organizzazione soltanto nel 7% dei casi abbandonano l'organizzazione e invece se vogliamo prendere se vogliamo attingere a donatori nuovi per il 28% delle organizzazioni intervistate c'è una grande difficoltà ad aumentare il bacino dei donatori quindi vuol dire che effettivamente la trasparenza a parte che comunque noi siamo sicuri di questo però anche dai dati si può già leggere nonostante non ci sia la domanda specifica prego usate il microfono può utilizzare il microfono così grazie tra l'altro mi occupo di docenze in diverse corsi di master post laurea a proposito della domanda allora nelle classi diciamo sono giovani che vanno dai 26 ai 40 anni per diverse situazioni lavorative c'è molto interesse per quelle che sono le piattaforme delle quali si occupa lei e questa però è la nuova generazione anche se ha passato i 20 anni di fan raiser e c'è invece per contro nella media delle organizzazioni che poi frequentano anche con i loro rappresentanti questi corsi un atteggiamento di scetticismo e c'è anche il fatto che la gente combina i dati vale a dire è uscita questa classifica internazionale per cui l'Italia è al 62esimo posto come paese virtuoso e di lì la diffidenza si concentra sull'uso delle donazioni online io sono molto contenta che siamo cresciuti nell'indice per le donazioni però questo è un fatto e deve cambiare anche la cultura dei professionisti del fan raiser che non può concentrarsi soltanto sul direct e sugli eventi è chiaro che deve essere fatto un cambiamento culturale a livello proprio professionale grazie forse Francesca deve chiudere il microfono vediamo sì sono Barbara Ruiz di Tineris Italia non so se avete sentito parlare di Donachiaro che è questo nuovo strumento questa stazione digitale interattiva per la raccolta di fondi sul campo è una novità quindi probabilmente la conoscono in pochi l'abbiamo appena presentata e ci interessa in particolare sapere perché abbiamo dei dati discordanti se al donatore privato interessa realmente avere una ricevuta della propria donazione altre domande o richieste osservazioni sempre buongiorno sono Augusto Liani Unicredit Universo No Profit una osservazione noi anche noi siamo abbastanza presenti su queste cose e per quanto mi riguarda visto che abbiamo fatto sul nostro territorio del centro d'Italia alcune abbiamo contribuito ad agevolare alcune campagne di raccolta fondi ritengo che alcuni strumenti possono andare molto bene per alcune organizzazioni No Profit Corporate o Large Corporate ma pessimamente si addicono addicono a non solo per un problema di competenze ma anche di impegni finanziari e anche di volumi che si mettono in gioco e anche di anni e anni di esperienza che hanno dietro e anche di territori perché io ho delle organizzazioni molto importanti che col passaparola accolgono milioni di euro di 5 per mille senza nulla di online senza nulla milioni di euro e altre organizzazioni che investono 5 per accogliere 6 e non di 4 e qui magari chiudo perché ci tengo molto perché oltre a lavorare mi piace anche questa cosa la componente etica nei prossimi anni sarà fondamentale perché troppi stanno entrando dentro questo mondo non per motivi etici punto altri interventi prego Francesca un'unica tra i vari corsi di master dei quali mi occupo c'è una sola università che mette tra le materie del management del terzo settore l'etica nessun'altra dà informazioni di carattere generale ma non mette l'etica tra le materie proprio grazie ci sono altre domande ci insieme si rispondo solo prego prego no no prego è venuto all'ultimo adesso sono Diego Maria Ierno qui per Passione non Profit e a me interessava il dato corporate effettivamente la raccolta fondi tramite appunto le imprese in questo dato che non sembra variare rispetto alla raccolta fondi dell'anno precedente se era la stessa la composizione della donazione di un'azienda se è stato calcolato a livello di a livello monetario quindi proprio erogazioni liberali oppure per esempio partnership avviate che hanno agevolato un processo diciamo era solo questo insomma grazie grazie allora direi se non avete altro da farci domande o riflessioni la parola cinzia velocissima sulla ricevuta effettivamente questa è una cosa anzi la ringrazio per per la sollecitazione vi abbiamo messo in cartellina anche l'articolo del sole 24 ore rispetto all'indagine che abbiamo citato durante la presentazione dell'IPR marketing potete vedere ci sono tra l'altro mi riaggancio anche alla domanda fatta precedentemente che nella cioè proprio il sole 24 ore ha sottolineato questi due aspetti che solo il 14% del campione dei donatori privati cittadini si è detto interessato alla deducibilità o detraibilità delle erogazioni effettuate questo però mi permetto di aggiungere che spesso è dovuto a una mancanza di informazione cioè pochissimi donatori sanno che la loro donazione la propria donazione può essere detratta dalle tasse sì e soprattutto non sanno che possono farlo soltanto a fronte di una transazione certificata quindi che sia una ricevuta piuttosto che la copia del bonifico bancario eccetera eccetera tra l'altro come vediamo infatti come abbiamo visto dei dati il contante è ancora la modalità preferita quindi con il contante senza una ricevuta rilasciata è impossibile anche decorre la propria donazione perciò anche qui c'è un po' un discorso culturale c'è una mancanza di informazione da parte delle organizzazioni ma anche da parte dei donatori privati spesso non viene chiesta un giustificativo per poter permettere poi la detrazione sulla trasparenza sempre in quest'articolo qua fa una sottolineatura e dice che l'indice di soddisfazione sulle informazioni ricevute sulla rendicontazione sale di 16 punti percentuali rispetto all'anno scorso quindi laddove non siamo riusciti noi a coprire questi due aspetti sicuramente molto interessanti ci dà una mano l'indagine di PR marketing quindi sostenuta da dati che sono tra l'altro in questo caso statisticamente rilevanti il campione dei donatori è un campione statistico credo che forse c'era sulle imprese no sulle imprese in realtà noi non facciamo una differenza cioè noi chiediamo le donazioni comunque da imprese e penso presumo che all'interno ci ricadano anche delle partnership dove ci siano donazioni non di denaro piuttosto che di competenze o spesso anche di beni quindi di beni sceduti dall'azienda nei confronti dell'organizzazione sì rispondo brevemente alle alcune vostre considerazioni allora 5 per 1000 vi dicevo la situazione semplicemente semplicemente è questa al Senato è in discussione la delega fiscale con una giusta battaglia molto trasversale di molti parlamentari in quella delega fiscale si dà mandato al governo di procedere a stabilizzare e quindi a regolamentare il 5 per 1000 dovrebbe ritornare alla Camera e quindi vedremo anche il testo come ci è giunto e questo è un passaggio importante evidentemente come istituto credo che vada in qualche modo presidiato ma anche da voi perché queste cose non è che si conoscono tanto neanche vengono raccontate sui giornali e sui media l'altra cosa interessante che rafforza questo percorso di come dirvi di chiarimento di fare di di dare un segnale di svolta decisivo forse avrete avuto occasione di leggerla è la relazione della Corte dei Conti di dicembre sul 5 per 1000 quindi non parliamo dell'istituto non parliamo del forum parliamo di un organismo del nostro Stato della nostra Repubblica autorevolissimo che ha studiato tutto con un'indagine ascoltando anche le reti del terzo settore ha studiato come il 5 per 1000 ha funzionato in questi anni con delle considerazioni che esattamente riprendono in maniera molto puntuale molto precisa le note critiche che da più parti erano state sollevate anche da noi e allora la Corte dei Conti dice ci sono delle lungaggini burocratiche che hanno dell'imbero simile perché l'erogazione avviene dopo un anno o due anni dice del caos tra le agenzie e tra i vari ministeri dice delle regole diverse tra chi si accredita in un certo ministero e chi si accredita in un altro ministero perché tenete conto che alcuni l'accreditamento in alcuni ministeri è un accreditamento per sempre tra virgolette mentre quello sulla promozione sociale sul volontariato è un accreditamento che devi fare ogni anno io non lo sapevo neanche per cui rimane anche un po' sconcertato cioè ogni ministero quando costruisce il suo albo l'albo per accreditare gli enti ha fatto le sue regole per cui c'è chi è fortunato per cui non deve per esempio reiterare la domanda anno per anno credo che siano quelli iscritti al ministero della cultura mentre le altre sì e non si capisce chi ha deciso e la cosa dei conti in questo è molto puntuale devo dire anche dice come sia illegittimo il tetto perché questo è un atto contro la volontà dei cittadini perché è un atto in debito dello Stato contro la volontà dei cittadini dice segnala anche l'inefficienza di controllo dei vari enti dei vari ministeri perché non c'è un'agenzia che controlla l'agenzia delle entrate fa pochissimo gli altri ministeri non controllano qualcosa fa il ministero del lavoro e del sociale gli altri ministeri non fanno il suo controllo e rileva per dirvi questo è un dato simpatico tra virgolette ma vi dice anche loro come nessuno sta controllando nulla che quasi in questo registro del 5 per 1000 1000 enti da anni non ricevono alcunché quindi sono iscritti ma non hanno avuto neppure una dichiarazione da loro neppure dei loro soci 1000 che sono comunque sempre lì e che quindi creano ancora macchina burocratica per poi che sono 1000 enti quindi neanche il controllo del registro e dire vabbè tu sono due anni tre anni che non ricevi alcuna segnalazione è bene che tu esca dal circuito insomma rileva per dirvi come la quota la quota minima che di 12 euro che è paro a una raccomandata perché uno dice non è possibile che ci mettiamo di queste cose però si inventano queste cose che la quota minima che non viene riconsegnata eventualmente è di 12 euro sapete non è di 12 euro cioè si dice bisogna alzarla perché tu spendi più nella procedura che nel dire all'associazione hai avuto soltanto 8 euro e non te li do immaginate la macchina burocratica le carte che girano le dichiarazioni dicono non è possibile quindi pone anche questo problema pone anche il problema un po' della sperequazione rispetto ai donatori benestanti passatemi questo termine dice ma questa cosa forse va un pochino perequata per cui un'associazione un'organizzazione se ha 10 donatori passatemi dico sto inventando un po' milionari beh insomma quell'associazione con 100 dichiarazioni ricevono quote di 5 per 1000 elevatissime rispetto alle altre che magari hanno avuto 10 mila beneficiari ma che però nella loro dichiarazione dei redditi consegnano una quota inferiore quindi diceva questo è un sistema legittimo ma forse andrebbe un pochino perequato stabilendo una quota massima eccetera eccetera quindi come dirvi abbiamo abbiamo la una un documento che rafforza anche chi deve stare in Parlamento e fare il mestiere che deve fare ma anche le nostre associazioni questo è un documento dalla Corte dei Conti noi abbiamo fatto una richiesta chiara al Ministero dicendo cosa intende fare dopo che la Corte dei Conti ha consegnato la relazione è una relazione che è consegnata al Parlamento dopodiché tu governo rifonda una relazione tecnica della Corte dei Conti devi comunque agire noi ci aspettiamo che la questione si chiuda molto velocemente spero con la deleghe fiscale e con i decreti attuativi si chiuda la vicenda il Ministero l'ultima risposta ci ha detto che loro ritengono che se fossero stati fedeli a tutte le dichiarazioni la quota di 5 per 1000 si aggirava sui 430 440 milioni quest'anno questo l'ha detto noi per dire siamo stati bravi loro quest'anno vi abbiamo dato 400 milioni quindi insomma non è che siamo stati tanto lontani dall'aggiungere il tetto calcolato così guardando un po' i contribuenti però l'obiettivo è eliminare il tetto evidentemente questo sul 5 per 1000 quindi siamo in un passaggio abbastanza cruciale tra l'altro c'è anche un nuovo governo se ci sarà e vedremo chi sarà come Ministro dell'Economia sperabilmente speriamo che si apra una stagione anche diversa un po' più chiara un po' più definita sulle deduzioni sapete che l'unica abbiamo quella relativa al 4,60 le onlus e abbiamo la di più meno versi sono queste le due diciamo leggi poi ci sono altre miriade di cose sparse per il mondo però sostanzialmente abbiamo il 4,60 che regola credo il 19% se ricordo bene bassissimo con un tetto di 2000 euro bassissimo che è una cosa che solo a dirla io mi vergogno bassissimo lo stesso per le imprese credo che il tetto massimo sia sulle 70.000 se ricordo bene la dei più meno versi è chiaro che adesso un po' la questione su cui noi faremo anche una campagna come istituto anche con le nostre reti è che se passa questa legge sul finanziamento dei partiti che guarda caso porta il tetto a 100.000 l'ultima versione del Senato ma però le deduzioni le porta a 26% io credo doverosamente io penso che dovremmo farla dentro e fuori il palazzo bisognerà chiedere non tanto dire ma dovete abbassarvi voi cioè io non voglio entrare in questa polemica ci mancherebbe anche quello se i cittadini vogliono dare risorse ai partiti lo facciano ma perlomeno ci dovete mettere sulla stessa sulla stessa o sullo stesso piano non dico per competere anche per competere perché poi capite anche voi che il mercato si allarga bianba molto perché se i partiti entrano in questo meccanismo con anche l'SMS Solidale insomma non credo siano tanto competitivi non dovrei dirlo come parlamentare non mi sembra molto competitivi rispetto ai nostri mondi però comunque vuol dire che nel campo delle raccolte fondi delle donazioni entrano altri soggetti quindi la torta non è dico che si arghe si restringe sicuramente quindi almeno poter competere alla pari è il minimo che si possa chiedere questo è il quadro che abbiamo davanti io spero davvero che si possa non dico se non voglio essere ottimisti il 2014 segna una svolta chiara su questo fronte sul fronte della fiscalità finisco sul dico su dell'etica sull'etica potete immaginare l'istituto è nato per quello quindi noi questo tema c'è carissimo cioè l'istituto della donazione che è una cosa io dico una piccola perla perché non non c'è altro intorno a noi è nato per quello e quindi il ribadire come oggi la questione della trasparenza la questione della della capacità di rendicontare sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista degli obiettivi che hai raggiunto l'accessibilità ai dati questi temi che erano cari anche all'agenzia per il terzo settore abbiamo fatto una carta della donazione un po' scritta anche da me in cui insomma individuiamo i principi che sono principi etici questo è un grande tema evidentemente noi l'istituto fa questo mestiere nel certificare nel dire in varie modalità che i soci i propri aderenti sono dal punto di vista della correttezza della trasparenza della sono al di sopra di ogni sospetto diciamo ci mettiamo le mani sul fuoco mettiamo le mani nel fuoco per i nostri 70 soci 80 soci aggiungo anche che l'istituto ha promosso questo sito Dono Sicuro che è un sito anche questo forse che non fa raccolta fondi non è che non è una piattaforma che attraverso la quale si fa raccolta fondi ma un sito che dice mette in evidenza le associazioni aderenti alcune accreditate sulle quali l'istituto garantisce quei principi che vi accennavo che fanno riferimento alla carta della donazione quindi abbiamo strumenti in campo abbastanza direi che ci sono c'è l'istituto che è uno strumento sono siti specializzati che dicono ai cittadini ecco quelle 100 noi siamo ormai 100 associazioni speriamo presto di raggiungere le 200-300 organizzazioni che ti indichiamo nel nostro sito noi ti diciamo che sono organizzazioni serie che hanno i bilanci in ordine e non solo i bilanci perché uno può fare i bilanci in ordine come sapete bene ma puoi fare delle cose che non c'entrano niente perché uno può consegnare un bilancio economico perfetto ma poi quei soldi li ha usati per altro e questo sapete è una questione ancora più delicata e più profondamente ancora più etica anche su questo noi facciamo un monitoraggio e diciamo guarda quelle associazioni sono serie attendibili quindi se donate e vi chiedono risorse per quel progetto ecco noi ci fidiamo questa è un po' la struttura che ruota attorno all'istituto e un po' l'attività che vi dicevo politica nel senso buono del termine di fare hobby perché questi obiettivi che ci siamo detti 5 per mille e fiscalità finalmente trovino una soluzione definitiva e questa è una questione tra le più politicamente sensibili perché a volte si dice problemi politicamente sensibili questa è una questione politicamente sensibile perché una repubblica passatemi questa parola che mi piace ancora tanto una repubblica che non premia e lo fa fiscalmente non con le pacche sulle spalle come ha fatto il ministro con noi quando ci ha risposto in Parlamento una pacchetta detto siamo stati bravi abbiate pazienza che via una repubblica che non dice il fatto che i cittadini donano tempo libero in caso dei volontari risorse imprenditori che dicono questo progetto che mi interessa ci metto la mia faccia ci metto le mie risorse ecco queste queste questioni sono di bene comune allora una repubblica che non non dice chiaramente che questi sono gesti di bene comune è una repubblica arcigna e non e non buona ecco non è quella che abbiamo scritto nella carta costituzionale dove si dice se ricordate che noi siamo oltre che avere oltre che diritti inviolabili abbiamo anche un dovere inderogabile inderogabile parola piuttosto impegnativa di solidarietà e la solidarietà 16 milioni di cittadini i dati erano questi della corte dei conti l'hanno fatto in maniera molto semplice non facendo volontariato magari semplicemente decidendo con il codice scegliendo un codice fiscale e dicendo una parte del mio reddito lo dono alle organizzazioni non profite 16 milioni e allora a queste persone che sono forse anche di più bisogna dargli un riconoscimento fiscale come sapete tra di noi ce lo diciamo spesso che porta frutto perché poi sapete la questione si dice ma così entrano meno entrate tu puoi vai a spiegare che queste risorse sono altro che efficaci hanno una produttività tripla o quadrupla ripeto a performance del profit perché insomma se l'avessero la fiat o se l'avessero con le nostre aziende questa capacità di triplicare l'investimento saremmo un paese oggi fuori dalla crisi e bisogna spiegare che c'è tutto il mondo che quei soldi lì quelle risorse da volte poche o tante che siano riesci a raddoppiare o triplicarle in termini di capitale sociale in termini di intervento concreto quindi alla fine ci guadagna lo Stato la Repubblica ci guadagna alla fine ci guadagna prego e volevo dire due cose la prima è che proprio quei 16 milioni danno credito al nostro paese perché 16 milioni sono tante persone che credono nel 5 per mille cioè credono in quello che noi facciamo e questo per rispondere alla criticità qualche volta anche mi pare di un intervento della Unicredit chissà dove vanno a finire questi soldi 16 milioni di italiani hanno detto noi ci crediamo al 5 per mille il 5 per mille viene regolarmente contabilizzato in maniera precisa e come lei dice Presidente quei soldi fruttano moltissimo io mi auguro che questo 5 per mille di cui si discute da quanti anni non me lo ricordo più 7 ecco che questo 5 per mille diventi una una legge diventi la legge come l'otto per mille perché non dobbiamo più dimostrare a questi nostri parlamentari che noi sappiamo forse qualche volta anche meglio di loro fare in modo che il denaro che ci viene affidato viene ben utilizzato questa è la realtà non si può più cincischiare su il tetto sulle modalità sulle cose facciamo una legge che ci dica su cosa possiamo contare perché quest'anno è vero le raccolte fondi sono andate meglio a questo punto però cerchiamo di pensare che noi su queste cifre del 5 per mille noi tutti del volontariato ci contiamo veramente perseguitare a fare bene il nostro lavoro grazie Roberto Salvan io credo che non basti soltanto ragionare sul 5 per mille bisognerebbe vedere la cornice grande del mondo non profit e credo che tutti quanti voi abbiate visto che è uscito il libro di Giovanni Moro abbastanza puntuale su alcuni argomenti io lo sto ancora roggendo non sono arrivato alla fine ma credo ci sia una necessità ancora qui da parte della politica di entrare dentro la grande cornice il codice civile che non se ne parlava qualche tempo fa e poi non si è sistemato che cosa vuol dire terzo settore il mondo del non profit insomma bisognerebbe creare proprio una legge quadro che definisca in un qualche modo tutto il mondo del non profit italiano perché è cresciuto a dismisura all'interno entrano certamente chi vuol far del bene e meno male la grande maggioranza c'è anche chi ne approfitta perché lì ci sono tante risorse quindi serve proprio la cornice che contenga tutto questo nostro lavoro sì sono d'accordo Roberto se potremmo stare insieme a ragionare fino a stasera sul resto che dovrebbe essere fatto che non è stato fatto e non si riesce a fare però insomma ormai è diventato un punto tanto cruciale a mio parere tanto decisivo che se non lo si fa voglio dire proprio che questo paese non ha possibilità davvero di tornare a sperare un po' più con più più certezza e questo mondo è un mondo importantissimo io lo dico spesso che sono qui dentro dobbiamo riformare le istituzioni dobbiamo tutto abolirla rivedere il senato speriamo di abolire di ridurre i parlamentari perché mille sono una c'è tante cose però accanto a questo da migliorare da potenziare eccetera eccetera c'è anche il nostro mondo che è fatto di associazioni di cittadini che va che fanno la Repubblica passatemi questa questa parola perché la Repubblica è fatta dai cittadini come ci ricorda il principio di sussiderietà dalle associazioni e anche dallo Stato non è che la Repubblica sia lo Stato lo Stato è un pezzo della Repubblica allora questo paese deve dare un segnale chiaro e forte ai cittadini che sono capaci di auto-organizzarsi e lo fanno semplicemente perché ritengono che quell'opera sia giusta bella e buona e lo fanno punto e basta allora un paese deve deve fiscegliere e schierarsi con questa moltitudine perché sono tanti da avere i cittadini che non aspettano il decreto legge che non aspettano la legge si rimboccano le maniche e fanno su e agiscono tante cose oggi accadono non perché c'è la legge ma semplicemente perché c'è gente che ha deciso in quel posto in quel luogo che era ora di impegnarsi e le storie le conoscete anche voi allora o c'è un segnale in questo senso codice civile quindi come dire non tanto per dirvi nell'atteggiamento dell'appesantimento del controllo del pregiudizio ma una concezione positivamente antropologica per cui dico le cose la gente che fa le cose buone va sostenuta e dopo magari la controllo anche perché se gestisce cose di bene comune è giusto che siano controllati ma parto dal presupposto che per me sono cose buone capite che è un approccio diverso perché se io faccio l'approccio pregiudizio negativo prima ti controllo poi ti faccio partire ed è l'antropologia negativa l'approccio positivo è che se ci conosciamo di temi fido ti faccio partire e dopo di che vengo anche a controllarti come succede forse più spesso nel mondo anglosassone e questo vuol dire un modo diverso di pensare le leggi e i credi perché se io penso che tu mi stai fregando ti faccio una legge dove ti controllo se penso che tu non mi stai fregando stai facendo delle cose buone faccio in modo che tu possa partire e poi ti vengo a controllare pesantemente magari anche perché se hai rotto la fiducia e la lealtà con il patto ti vengo a controllare Giovanna prego Giovanna Rossiello è una giornalista amica dell'istituto amica di tanti di noi lei svolge un mestiere importante è un'appassionata comunica le buone notizie cose buone quotidianamente e quindi a noi ci piace sempre averla tra di noi perché ci aiuta in qualche modo anche le notizie buone le avete date anche voi perché questi dati che raccontava la nostra Cinzia e che ci portano convinti che forse il 2014 può essere l'anno del dono sono buone notizie sulle quali lavorare moltissimo allora io faccio una proposta operativa prendendo lo spunto anche dalla cultura del cambiamento che veniva dalla nostra ospite che lavora con l'università dalle parole etica e altro io credo che dobbiamo assolutamente lavorare sugli snodi gli snodi in questo momento sono proprio quelli che ci dicono la Corte dei Conti ci dice che c'è un caos che nei ministeri ci sono tante ognuno fa per conto suo ecco lavorare a questi snodi è arrivato il momento giusto Renzi ci ricorda che appunto il terzo settore dovrebbe essere il primo settore perché è quello che in un momento di crisi come questa dà lavoro a persone che hanno a che fare con l'etica con il proprio lavoro e con l'etica allora io credo che se lavoriamo sugli snodi e faccio degli esempi concreti se da una parte c'è l'agenzia per esempio nazionale dei beni confiscati che ha pochissimi dipendenti per gestire più di 12.000 beni sottratti alla mafia allora il discorso di cultura e di informazione è quello di rendere conveniente la legalità far capire che ai beni sottratti bisogna subito permettere di farci dentro le cooperative sociali centri di volontariato perché c'è talmente tanto che si può fare e ci sono tante buone pratiche messe insieme penso agli amici di Libera ma non voglio fare i nomi perché sono tante dappertutto al nord come al sud che questo concetto di rendere conveniente la legalità è un concetto importantissimo come snodo dal quale partire noi siamo come notizie negative purtroppo lo sappiamo passano nei notiziari passano nei telegiornali e le notizie costruttive che fanno capire un cambiamento che c'è fanno tanta fatica allora anche qui io dico aiutatemi aiutiamoci a lavorare sugli snodi far capire che le notizie che aiutano le persone a essere più responsabili eticamente consapevoli e a sapere che si può fare qualcosa per gli altri sono notizie di grandissima utilità anche perché stanno sorgendo una dopo l'altra giorno per giorno piano piano ma con vigore associazioni situazioni tipo l'Italia altruista le social street dove si comincia a conoscere su internet ma poi ci si scopre come vicini di casa che non si guardano più in Cagnesco 30.000 persone che dibattono tutti i giorni che litigano per i cani no magari si può vivere con un spazio condiviso nella propria strada nel proprio quartiere anche perché aumenta il numero degli alziani delle persone sole quindi tutte le risposte che vengono dal mondo no profit sono la cosa essenziale per costruire un welfare di comunità per cui la tua associazione si occupa dei bambini la sua degli anziani e insieme si mette rete e si lavora sugli snodi per far capire che questi sono realtà essenziali io nel mio piccolissimo perché magari tutti i giorni purtroppo da otto anni una volta a settimana per sette minuti lavoro sentendo tutte le redazioni sentendo tutti i corrispondenti perché io penso che se c'è una buona notizia che a Berlino magari può essere utile anche a Napoli e faccio in modo di farla diventare una notizia con le video chat ecco adesso mi piacerebbe affrontare poi con video chat finalizzate al Tg1 questo discorso dell'istituto del dono perché qui entra la cultura la cultura del cambiamento beh insomma che siamo a buone posizioni in Europa nel mondo come donazione questo ridà anche un po' di fiducia di speranza non è che siamo tutti così negativi oppure attaccati al modello del furbo che è quello che ci vuole fregare no siamo tanti allora lo spazio e il lavoro degli snodi che coinvolge tutti è quello di uscire dalla propria associazione per quanto riguarda le associazioni di uscire dal fatto che si propongono in redazione soltanto notizie negative dal fatto che i politici beh anche i politici non è che sono tutti corrotti allora io credo che se si lavora cominciando dai comuni virtuosi una piccola cosa in otto anni a fare la cosa giusta non è mai entrato un politico per mia scelta perché volevo far vedere l'Italia che fa l'Italia che fa bene ora io credo però che è arrivato anche il momento visto che di far capire che se ci sono dei comuni virtuosi è perché ci sono degli amministratori dei politici locali che fanno delle cose fatte bene e che valgono la pena di essere conosciuti per farci capire che appunto non c'è soltanto e questo mi fa molto male quanto è brutta Roma quel sito che è stato tanto cliccato in questi giorni le buche di Roma ma ci sono anche le scuole che ripuliscono Ponte Milvio che fanno le pulizie delle spiagge lontano dai riflettori e lo fanno d'inverno quando nessuno lo sa e queste sono iniziative che creano la cultura del cambiamento che ci danno fiducia nell'altruismo anche perché voglio fare dei piccoli esempi il dono della vicinanza allora il giorno che è morta la povera ragazza che si è suicidata perché vittima di cyberbullismo noi abbiamo fatto un collegamento con gli 800 studenti che sono stati riuniti da una piccola associazione minalese cuore e parole che si occupa di disagio 800 ragazzi che erano in gambissima che davano risposte che capivano che non bisogna lasciare solo all'angono al muretto una ragazza che ha difficoltà che erano disposti ad ascoltare allora se manca l'ascolto è chiaro che questo è il primo passo e l'ascolto lo dico anche tra media e associazioni tante sono le associazioni che propongono eh ma c'è la giornata di questo sì ma c'è la giornata di quell'altro bisogna capire che anche c'è bisogno di un modo diverso di porsi perché certe cose possono andare avanti ormai sulle proprie gambe altri modi di stare insieme per dare fiducia ad una repubblica che è fatta di persone come diceva con passione edo patriarca è chiaro che ci vogliamo sentire tutti da una parte che ci tutela e che ci rappresenta un altro dono della cura ve ne parlo perché sono piccole pillole che ci possono aiutare a fare questo ragionamento degli snodi beh a Milano la settimana scorsa è nata una band all'interno dell'istituto di cura dei tumori che si chiama The Believers e hanno cantato creato un canzone nuvole d'ossigeno scritta con la band di Elio e le storie tese ma e ne ho parlato li ho fatti venire ma la cosa bella non è tanto la canzone ma quanto come all'interno di un istituto dei tumori di cura ci si ponga in una posizione costruttiva con i ragazzi prendersi cura non solo della malattia ma prendersi cura della loro crescita del loro sviluppo anche dentro la corsia e la voglia di fare squadra di sconfiggere la malattia tutto questo ha a che fare con il dono così come il dono del dopo di noi di quelle cooperative di genitori sociali di caba dei tirreni al sud ma ce ne sono tantissime al nord spesso appunto che sono finanziate anche da banche che hanno atteggiamenti etici e questo è importantissimo perché il dopo di noi riguarda proprio il prendersi cura il dono il dono della vita che continua anche quando i genitori non ci sono più penso all'housing sociale della fondazione opera Barolo che era nata in un quartiere proprio di Torino dove una nobile andava 150 anni fa a parlare con le ex detenute con le detenute e poi questo è diventato la base di un progetto di legge per i detenuti che vale ancora oggi penso ai ragazzi dell'istituto dei minori di Nisida ai quali il direttore illuminato ecco parliamo sempre di persone illuminate che hanno il dono dell'ascolto la bellezza salverà il mondo a questi ragazzi è stato proposto e hanno realizzato foto proprio su quello che per loro era la bellezza lì nella campagna intorno a Nisida che hanno curato gli animali la speranza di potersi reinserire e di essere ascoltati loro pensate hanno cominciato questa bellezza che salverà il mondo questo stile di vita ascoltando accogliendo tra di loro la scienziata Jane Goodwill quella che va in Africa a salvare gli scimpanzè e che ha 80 anni ecco loro sono stati innamorati da questa rimasti folgorati da questa donna perché dice gli scimpanzè non ci giudicano ecco questi ragazzi che vogliono sposarsi subito ancora minorenni e non sanno come si costruisce una vita hanno trovato dei riferimenti quindi se nella vita ci sono riferimenti giusti allora le cose si possono fare e può aumentare il numero dei volontari e da qui e da cosa nasce cosa si allarga l'interesse per il no profit l'Italia sale nella classifica mondiale di un'Italia altruista di un'Italia che fa le cose per gli altri e si occupa per esempio di silver co-housing di forma di coabitazione nuova aumenta la durata della vita e allora gli anziani c'è qualcuno che ci ha pensato ma è ancora un piccolo nucleo di condividere la propria abitazione con altre persone così si combatte la solitudine e si abbattono i costi per le case che vanno magari ai giovani a chi è single e a chi ha altre priorità ecco soltanto per ricordarvi che Campi Bisenzio in Italia è un luogo portato ad esempio in Europa per l'integrazione dei lavoratori e degli stranieri e lì la formula è semplicemente urbanistica e umanità e Campi Bisenzio e a pochi chilometri da Prato dove invece per la cronaca nera tutti i giorni purtroppo si ascoltano delle brutte notizie io spero di essere stata esaustiva con il discorso degli snodi che è proprio il mio chiodo fisso bene esaustiva e passionata giusto come sempre bene vi ringraziamo abbiamo fatto l'ora l'ora si è fatta tarda dobbiamo chiudere se no fra un po' mi sgridano e vi ringraziamo al prossimo appuntamento sia dell'istituto della donazione e poi magari citeremo anche aggiornati sulle vicende legate alle legislazioni alle fiscalità vedremo un po' come andrà a finire grazie a tutti buona giornata grazie a tutti